Ho appena sentito il tuo capitano che anche quest'oggi con un gol ci regala la vittoria, ma quasi anche tu la butti dentro. Alla fine va dentro anche il mio tiro, però è andata sopra la traversa. Ma niente, siamo contenti per quello che stiamo facendo, la vittoria di oggi ci ha dimostrato che volevamo vincerla e metterci ancora dei punti per attaccarci al treno là in alto. Ci siamo riusciti e abbiamo difeso il risultato anche nei minuti finali senza soffrire più di tanto. Solo nel primo tempo Ziglioli ha fatto una gran parata su un colpo di testa loro. Come dicevo a Luca è stato un buon primo tempo e un secondo un po' sofferto, però c'è da dire che non giochiamo da soli. Eravamo anche in vantaggio, quindi ti viene anche un po' da difenderti, però non ci sta. Però va bene, anche così, dai, le abbiamo portato a casa con i denti. Diciamo che domenica scorsa sicuramente si meritava per come avete giocato. Alla fine questo è il calcio, no? Questo è il calcio. Allora ti lascio godere la vittoria di stasera e ci vediamo domenica. Grazie, grazie, ciao.